Mingo, con chi ti accompagni? Lui è Selvaggi e consiglio di non togliergli la mascherina di carta di Capatonda perché è molto meglio una mascherina. Volete fare una prova? Provate. Vai, togliamo. Questo sono io in realtà. Qual è il partito, scusami? Rifondazione? Ricottara, cioè l'unico vero partito del quale gli altri sono meri imitatori. Si parla di satira al circolo della vela di Bari e i protagonisti non possono che essere Mingo e Alberto Selvaggi, il primo autore di quella che il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Giuseppe De Tommaso, definisce satira verità, il mostrare quel che non va con una telecamera. Selvaggi per graffiare invece usa la scrittura e quando gli chiedono chi si sia ribellato di più risponde in genere la sinistra perché la satira colpisce i politici, tanto che Ambrotti sosteneva fosse quasi una consacrazione. E allora ascoltate le domande di Mingo. Antonio De Caro sta facendo una campagna elettorale a chilometro zero. Non sarà perché sogna un'opposizione più degradabile. Però per Parcondicio, direttore, un altro dubbio. Per Parcondicio, in Puglia, per Berlusconi, Raffaele Fitto è sempre stato il Delfino. Non sarà che a questo giro Raffaele Dino si spiaggia? Non sarà che a questo giro Raffaele Dino si spiaggia?